Ancora una volta Papa Francesco torna a parlare della mondanità. Lo fa nel suo Magistero Quotidiano a Santa Marta, riflettendo sulla storia di Re Salomone, il cui cuore viene deviato lentamente fino a diventare infedele. Il Re Saggio, infatti, smise di adorare l'unico Dio, lasciando entrare il Paganesimo nella sua vita attraverso le tante mogli straniere che offrivano sacrifici ai loro dei. La sua caduta è un monito anche per i cristiani di oggi. Ma dove è il pericolo? Lasciarsi scivolare lentamente. Perché è una caduta con anestesia. Tu non te ne accorgi. Ma lentamente si scivola, si relativizzano le cose e si perde la fedeltà a Dio. La mondanità, continua il Papa, significa perdere il genuino del Vangelo e l'amore di Dio. E quante volte noi dimentichiamo il Signore e entriamo in negoziato con altri dei. Il denaro, la vanità, l'orgoglio. Ma questo si fa lentamente. E se non c'è la grazia di Dio, si perde tutto. Non si può stare bene con Dio e con il diavolo, conclude Francesco. Corre vigilare e chiedere la grazia di fermarsi quando il cuore inizia a scivolare lontano dal Padre. Grazie. Grazie.